Quest'anno è in scadenza il suo mandato, che cosa farà? Si cambierà nuovamente per il secondo? Direttore, la prendo un po' alla larga per dire questo. Fare il sindaco è sicuramente il lavoro più bello del mondo perché ti permette di lavorare per la tua comunità, la comunità in cui sei cresciuto, la comunità in cui vivi, la comunità in cui ha intenzione di invecchiare. Fare il sindaco è un impegno importante, un impegno gravoso, 7 giorni su 7, non dico 24 ore al giorno ma quasi, e sul tavolo del primo cittadino passano veramente tutti i dossier del comune, a prescindere dagli assessorati e dalle deleghe che poi il sottoscritto si è tenuto per sé. E quindi l'impegno è particolarmente gravoso. Aggiungiamoci il fatto che il sottoscritto fa l'imprenditore, ha un'azienda che fortunatamente è in crescita, va bene, è un'azienda fondata da mio babbo che non c'è più, 47 anni fa, è un'azienda fondata tra l'altro pochi giorni prima che io nascessi, e la somma di questi due lavori così importanti potete capire che crea poi un impegno particolarmente faticoso da entrambe le parti che potrebbe rischiare poi di non poter portare più avanti con serenità l'impegno che sicuramente in questo momento è il più importante ed è il più bello, quello di fare il sindaco. Ed è per questo che ho deciso di non candidarmi. Io non mi candiderò anche in questa nuova lista dei miei amici di questo tavolo politico che è in corso in queste settimane, che è in corso da mesi per cercare un nuovo candidato, però sono ancora una persona giovane, piena di energia ed è particolarmente legata a questo territorio e una cosa la voglio dire, mi sono fatto una grande esperienza in fatto di discariche, quindi i futuri amministratori di Fano, della provincia sappiano che avranno sempre un interlocutore che ne lascia lunga su queste questioni e i miei concittadini devono sapere che l'impegno per non far ampliare la discarica di Monteschiantello sarà sempre il mio primo impegno, quindi quando parlavo di consulenze, di esperienza, io ci sarò, perché non permetteremo a San Costanzo che venga ulteriormente ampliata la discarica di Monteschiantello, sono 45 anni che sopportiamo questa invasione di campo, chiamiamola così.